se stiamo correndo di più. Poi in descrizione, sì, in alto a destra vi lascerò anche altri video consigliati da me che secondo me sarebbe meglio vederli. E poi anche in descrizione trovate altri link di tutti i miei social dove sono io che scrivo ogni tanto, metto quando carico un video su youtube. E poi trovate anche il link per le donazioni se volete sostenermi, non dovete sì, poi ci trovate anche altri link, altre informazioni in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i miei video, lasciate un like se il video vi è piaciuto. E bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, come potete vedere anche dal titolo oggi siamo tornati su Evo Truck Simulator 2 e volevo portare una nuova serie su GTA 5 però ho avuto qualche problema. Ora sto provando a reinstallarlo e vediamo se riesco. Quindi ho deciso di portare Road Truck. Quindi sì, oggi stiamo andando a Verona, siamo partiti da Milano. Sì, ho provato a vedere tutte le destinazioni e sono tutti i posti che siamo già andati, allora ho scelto il primo. Quindi sì, ora stiamo andando e stiamo trasportando metalli di scarto. Ecco, con questo cavo qua ci sono tutti i metalli di scarto. Perfetto. Ecco, quindi sì, stiamo andando lì e ancora 168 chilometri. Sì, come vi stavo dicendo ci mancano ancora, ci mancano ancora 160 chilometri ora. Sì, ecco, adesso stiamo entrando in autostrada. Quindi ralentiamo. stai che ci riusciamo. Ecco sì, come vedete ora ci sono i limiti per l'auto perché un mio amico su Whatsapp mi ha scritto di correre di più e mettere i limiti per l'auto. E quindi eccoci qua con i limiti per l'auto. proviamo a correre anche un po' di più adesso che ci sono limiti più alti ecco andiamo ora ora intanto ci siamo fatti sorpassare da un camion che però ora lo sopassiamo noi tra poco eccolo risuoniamo mi assomiglia giusto e via perfetto ma il limite di cento perfetto fino a che limite di cento andiamo un po così e vi ricordo di passare per il mio merchandising che trovate lo trovate il video dedicato nella in alto a destra e trovate anche nel link in descrizione per arrivare direttamente al merchandising e in descrizione trovate anche il codice sconto da inserire che è 10 per cento provatelo e ditemi se funziona per chi volesse acquistare lo provi e mi contata se non funziona ecco ora possiamo accelerare di più come vedete stiamo accelerando ci stiamo correndo di più poi in descrizione se nella in alto a destra vi lascerò anche altri video consigliati da me che secondo me sarebbe meglio vederli e poi anche in descrizione trovate altri link di tutti i miei social dove sono io che scrivo ogni tanto metto quando carico un video su youtube ecco e poi trovate anche il link per le donazioni se volete sostenermi non dovete sì e poi ci trovate anche altri link altre informazioni in descrizione ah qua c'è una corriera ferma va bene perfetto e via continuiamo manca se non manca tanto dai se non ci sei capo a penieri possiamo così arriviamo anche prima ecco ora dobbiamo uscire per di qua come ha detto il navigatore avevamo fatto l'altra volta questa strada mi sembra di sì è la stessa sì siamo partiti da milano libellula e adesso stiamo arrivando a verona posped 14 minuti tempo rimanente va bene ci stavo vedendo tutte le informazioni grazie ecco ci ha detto che le spese verranno pagate del datore di lavoro le spese per il pedaggio ecco e poi il guadagno sarà di 3.332 euro è buono si prepararsi a voltare a destra il limite di 50 perfetto eccoci qua adesso due minuti ancora il tempo rimanente ovviamente non sono i minuti reali ma sono i minuti del gioco prepararsi a voltare a destra adesso devo voltare a destra si qua ah no ah ma è sempre lì eh sì si si sempre qua in pratica siamo arrivati a destinazione alla prossima perfetto lo parcheggio dove vuoi vediamo se riusciamo si ho provato a vedere anche della mod per potenziare il motore del camion però prima bisogna acquistare un camion prima di mettere quello a mod perché sennò non funziona di quello che leggevo e quindi prima dovremmo acquistare un camion piano piano lo acquisteremo ora mettiamoci abbastanza bene ma è un buon parcheggio non mi prende ancora però strano ah sì giusto 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 ecco eccoci perfetto perfetto ora siamo arrivati qua e siamo saliti anche di un livello eccellente e mettiamo questo io direi che questo poi ci da cosa di più è questo no sarà più giurfo ah ecco si si ecco solidi infiammabili tipo nitrocellulosa facilmente incendiabile magnesio o fosforo rosso tra gli altri può spontaneamente infiammare alluminio o alchili o fosforo bianco pericolosi se bagnati sono sodio calcio potenzio eccetera perfetto altri trasporti pericolosi adesso possiamo fare no aspettate no aspettate dobbiamo fare applica ok quindi questo video è giunto al termine passate per il mio merchandising che trovate in alto a destra e sotto in descrizione iscrivetevi commentate lasciate un bel like condividete sostenetemi ancora e alla prossima ciao 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 ciao